ciao a tutti amici della riete benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale mostrami a riete tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2020 che imperatore papa wow ragazzi periodo di aumenti di stipendio nuovi contratti nuovi ruoli nuove possibilità nuovi nuovi ruoli lo sento veramente tantissimo si parla di qualche cosa di riconosciuto di stabile di continuativo qualcosa di ufficiale devo vedere di cosa si tratta con i tarocchi come sempre vi ricordo che le letture sono generali sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare ascendente segno lunare o venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale queste sono letture generali quindi possono vibrare come qualche cosa inerente al lavoro piuttosto che alla famiglia piuttosto che anche agli affetti ma diciamo che quelle poi sugli affetti le pubblico la prossima settimana sono un po più specifiche quindi queste appunto le tratterò come letture più generiche partiamo da un otto di coppe un 5 di spade 2 di bastoni 10 di spade asso di spade 4 di coppe e 4 di spade dunque ragazzi devo dire che è un periodo impegnativo si parte da una ricerca da una ricerca interiore può essere un lavoro di autoanalisi piuttosto che proprio un viaggio in solitaria qui col 5 di spade c'è parecchia confusione mentale come se ci fossero degli attriti nella prima parte di novembre ed è come se non non si riuscisse a lasciarsi indietro questo mood questa vibrazione ma andiamo a vedere perché comunque queste sono carte splendide andiamo a vedere un man mano cerco di spiegare vediamo che tipo di sfumature ci sono allora partiamo con un 9 di pentacoli e una regina di spade allora qui può far riferimento a un lavoro ragazzi magari qualcuno deve partire per un lavoro può essere un lavoro di tipo dipendente può essere un lavoro appunto che vi richieda di partire c'è il lavoro in sé vi chiede o qualcuno o anche la sensazione che qualcuno potrebbe lasciare un lavoro magari proprio un lavoro da dipendente devo vedere il 5 di spade 8 di coppe di nuovo e regina di bastoni voglio andare a vedere anche il 2 di bastoni ok allora qui ragazzi il punto è che ho come l'idea che qualcuno potrebbe lasciare un lavoro da ufficio un lavoro dietro la scrivania letteralmente potrebbe anche essere un lavoro in banca come un lavoro in scatola direi in scatola nel senso che si sta dentro una un cubo una scatola un ufficio per cercare qualche cosa che sia più affine a voi o come la sensazione che abbiate bisogno di cercare la vostra stabilità nel mazzo di osho a me piace molto perché l'imperatore viene chiamato ribelle proprio perché uno dei significati dell'imperatore è di rompere le regole degli altri e di creare le proprie per arrivare appunto cioè lui ha fatto così ha rotto le regole già esistenti ha creato le proprie regole che poi ha seguito pedestremente però quello che vi voglio dire è che si è fatto da solo ok quindi qui è un po come il che cose più in linea con me cosa mi dà amore perché qui sento che la carta degli amanti fa riferimento all'amor proprio all'amore che si ha per se stessi a quanto ci si valuta ed è come una ricerca più verso il naturale più verso le proprie passioni cioè questo se fosse veramente che state lasciando un lavoro o comunque cioè è come se andaste verso qualche cosa più in linea con voi con le vostre doti con le vostre passioni con le vostre attitudini allora ho anche l'idea che qualcuno potrebbe lasciare un certo tipo di lavoro perché è come se avesse voglia appunto di stabilirsi di creare una stabilità magari un lavoro dove si viaggiava e quindi non si può creare diciamo una realtà una relazione insomma di un certo spessore quando si è lontani perché non ci si vive e quindi ho anche come un po questa ho bisogno di di mettere radici tipo andiamo a vedere il 10 di spade allora abbiamo un cavaliere di bastoni un quadro di coppe e la sacerdotessa dunque ragazzi qui la questione la questione è che siete indecisi a fare il passo se non lo avete ancora fatto se lo avete già fatto siete comunque indecisi sul avrò fatto la scelta giusta perché perché in questo momento non riuscite ancora vedere nel lungo periodo avete ancora bisogno di ricercare dentro di voi ricercare che cose più in linea con voi voglio andare a vedere questo asso di spade 8 di pentacoli 7 di coppe asso di coppe e papa papa ce l'avete già qui ragazzi qui si tratta per molte persone di decidere se iniziare un lavoro di tipo spirituale ma nel senso che siete voi a seguire gli altri ho come l'idea che qui potrebbero esserci delle guide magari maestri reiki magari coach appunto di tipo spirituale o per qualcuno questo papa fa riferimento al fatto che andrete a cercare una guida quando c'è il papa e passi parla di guida spirituale non è necessariamente detto che sia una persona possono anche essere dei libri possono essere dei video può anche essere un amico un'amica con la quale conversata un certo punto mi dice quella cosa che guarisce normalmente quando c'è il papa è proprio una guida comunque qualcuno che vi dà una direzione qualcuno che vi accompagna qualcuno che vi aiuta a interpretare i segni il simbolismo il fatto le cose come succedono insomma gli eventi andiamo a vedere questo quattro di coppe sei di bastoni e sei di pentacoli ragazzi qui allora se fosse il discorso del lavoro che vi dicevo prima è come se qualcuno volesse effettivamente andare verso una maggiore stabilità un maggior valore personale però come se qualcuno cioè se non aveste idea di come approcciarvi a questo nuovo settore potrebbe anche semplicemente essere che volete lasciare il vecchio lavoro e ma non ne avete ancora uno nuovo e quindi non vedete tipo prospettive non avete perché comunque il 4 di coppe c'è la carta della cecità ma tenete anche presente che il papa è una carta di contratti normalmente sono i contratti cerimoniali quindi il matrimonio ma non è detto possono anche essere i contratti fatti con grossi società con gruppi grossi riconosciuti comunque e qui vi sento proprio come se non riusciste a vedere ma infatti sì perché la sacerdotessa ce l'avete qua e che per riuscire a vedere dovete prima chiudere con il passato chiudere col ciclo di sofferenza lasciarmi indietro quelli che sono i tradimenti il dolore tutto lo sforzo che avete fatto il sacrificio che avete fatto cioè ormai quello che è fatto è fatto pensate a quello che potete fare nel futuro perché comunque vi vedo proprio nella ricerca guardate guardate il sei di bastoni è l'arcano minore del papa questo è l'arcano minore della giustizia ma è comunque una carta che parla di scambi commerciali e solidi quindi un qualche cosa che costano più che costante solido del giusto valore e qui l'imperatore è qualcosa di solido di concreto parla di abbondanza economica e anche andiamo a vedere il quadro di spade 3 di coppe e 2 di coppe allora l'idea qui è che vi prendiate un momento lontano dal partner lontano dagli amici dalla famiglia dai colleghi di lavoro da quello che è per riuscire effettivamente a fare questo questo percorso di ricerca interna il 5 di spade può far riferimento a tutte le voci che avete intorno soprattutto potrebbe essere quella di questa regina di bastoni però ho come la sensazione che ci siano talmente tante voci talmente tanto tante dicerie su questa situazione su questo cambio e qui avete proprio bisogno di chiudervi da qualche parte per curare la vostra anima e riuscire a fare il lavoro di ricerca interna proprio per riuscire a capire come raggiungere successo come raggiungere l'equilibrio come creare contratti stabili e duraturi quali sono le opportunità che si possono aprire che tipo di lavoro mi viene da dire sulla guarigione ragazzi qui ho come l'idea che molte persone potrebbero essere anche medici dottori os terapeuti appunto di medicina olistica nutrizionisti va bene andiamo a vedere un oracolo perché tutto sommato ragazzi il movimento qui è semplicemente di ritirata è come se avessi bisogno di ritirarvi una t sia che sia al lavoro sia che sia dai pettegolezzi però la sensazione che dovete un attimino chiudervi in voi staccarvi da quello che lo spirito di sacrificio di sofferenza per capire come raggiungere successo perché bisogna staccarsi dallo spirito di sacrificio di sofferenza perché molte volte si pensa che più ci si sacrifica ipotesi per i clienti più si ha e invece no perché così ci si drena e basta bisogna comunque studiare ricercare quelli che sono i propri limiti anche bisogna essere in grado di dire ok sono arrivata non ce la faccio più oggi basta non ce la faccio più a supportare questa persona che può succedere ecco carta numero 19 flessibilità sì in effetti sì probabilmente avete bisogno di lavorare su questa flessibilità perché l'imperatore è uno di quei personaggi che si è fatto da sé ma proprio perché ha seguito rigidamente le regole non ha sgarrato mai e anche il papa è una di quelle carte che parla di tradizioni di cose che si riperpetuano nel tempo di cose sacre anche di riti sacri quindi qui probabilmente vi potrebbe essere utile lavorare sulla vostra flessibilità sia da un punto di vista mentale sia da un punto di vista pratico la flessibilità mentale che cosa vuol dire se voi non avete mai fatto un lavoro non è necessariamente detto che non siate in grado magari non avete le esperienze magari ci mettete un po imparare però potrebbe anche essere un lavoro dove voi non vi rendete conto ma effettivamente riuscite bene dove effettivamente potete aiutare gli altri ragazzi spero che comunque la lettura vi sia stata utile vi abbia dato qualche spunto di riflessione fatemelo sapere nei commenti se avete piacere potete mettere like iscrivervi condividere il video o abbonarvi al canale se fate fatica a trovare il tasto abbonati visto come lo stanno dicendo allora può essere un problema di modello di computer scusate il modello di telefono normalmente dal computer si vede oppure può essere una questione di aggiornamenti del telefono ok eventualmente se vi dovesse succedere voi comunque come lo scrivete nei commenti o me lo scrivete via mail cerchiamo comunque di risolvere la cosa insieme bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao